buongiorno a tutti ragazzi e ben questo video parleremo bene di che cosa del novantesimo episodio di angry dragon e e poi nel più tardi pomeriggio che mi viene meglio jack and dexter precarstor legacy spider cave episodio 15 e poi il tubo labico e andremo anche al passo montano che abbiamo sbloccato le fonti di eco gialle che era una strada d'accordo comunque buona visione eccoci qui ragazzi nel novantesimo episodio di angry dragon ora ci aspetta un un super tesoro ragazzi vediamo qui la lega 3500 ancora lega del coccodrillo opposto i forzieri ci sono certo che dite la cambio la missione quella la di 110 draghi eccoci qui va bene l'ultimo scrigno si trova qui la prima lettera si trova qua sopra vediamo eccola qua d'accordo la r da questa parte qui c'è un altro scrigno del tesoro benissimo eccoci qui c'è un altro scrigno del tesoro benissimo benissimo ok eccomi qui lo scrigno da questa parte andiamo oh la draghessa dove diamine lo scrigno eccolo qua trovato muori tu brutto troll l'ultima missione la possiamo completare no qui non c'è niente la furia dei venti di eolo praticamente era nelle isole eolie eolo il dio del vento nella mitologia greca dunque nooo aspettate che non cammini in draghessa andiamo forza andiamo 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 e qui abbiamo utilizzato la scorciatoia e già qui direttamente benissimo proseguiamo occhio alle trivelle e qui Tutto la panguera ai cara L'ultimo scrigno l'abbiamo raccolto Qua ragazzi miei Dobbiamo almeno completare Mello 16 Mello 16 Mello 16 Mello 16 Mello 16 Mello 16 Mello 17 Mello 16 Mello 16 Mello 17 Mello 17 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Esploriamo la grotta.